Ciao, sono Francesco Buzzurro e questo è il mio corso, il fingerstyle jazz e l'arte del solo playing. Ti è mai capitato di volere arrangiare la tua canzone del cuore tutto da solo sul tuo strumento? Oppure ancora, ti è mai capitato di dover accompagnare una cantante, uno strumentista a fiato e non sapere come realizzare la forma ritmica di quell'accompagnamento? In questo mio corso imparerai a utilizzare lo strumento in versione solistica. Quante volte ti sarai chiesto come arrangiare il brano che più ti piace in versione one man band? Ebbene, in questo mio corso avrai gli strumenti utili per comprendere i meccanismi di funzionamento della tastiera della chitarra attraverso i tre piani della musica, l'armonia, il ritmo e la melodia. Imparerai a gestire gli accordi, a collegarli tra di loro, capirai come accompagnare un cantante, avrai uno sguardo complessivo su come gestire la dinamica di un solo, ma soprattutto imparerai a studiare, imparerai a gestire la tua routine quotidiana. Quindi ti aspetto al mio corso, il fingerstyle jazz e l'arte del solo playing. Su Musicizer. Ciao!